Chiariamo subito una cosa, che Massimo Ferrero fosse un tifoso della Roma non è certo un mistero per nessuno. Il presidente della Sampdoria non ha mai nascosto la sua fede giallorossa, certo è che la sua dichiarazione d'amore per i colori della Roma, in diretta TV a Domenica in, non è stata molto gradita da buona parte dei tifosi della Samp. Proprio in un momento, poi, in cui sembra si possa davvero arrivare alla vendita della società doriana un'accordata di più, provata, fede blu cerchiata, capitanata da un indimenticato eroe come Gianluca Vialli, so, romano, so, romanista, so, nato a testaccio, più de così nun se po' ha detto ieri Ferrero quando il signor Pallotta deciderà di andare in pensione, io so, pronto. Così da ma, sti lupacchiotti la Roma che se meritano. Troppo amore giallorosso e troppe poche le parole spese per la causa blu cerchiata, secondo molti tifosi genovesi che, specialmente sui social, non hanno tardato a farsi sentire. Uno dei primi a fare sentire la propria voce è stato Enrico Nicolini, con un posto sulla sua pagina Facebook, c'è chi sogna di andare alla Roma, cit. Ferrero a Domenica in, c'è chi sogna di andare alla Samp, cit. Nicolini a casa Nicolini